Impossibile cancellare dalla memoria dei fedeli la storica visita di San Giovanni Paolo II nella nostra terra. Anche quest'anno ad Agnone i fedeli si sono raccolti in preghiera nella chiesa di Sant'Emilio, non solo per ricordare quel lontano giorno del 1995, ma anche per riflettere e trarre nuova energia dalle parole pronunciate dal Santo Padre. Parlò di lavoro e della speranza di riscatto per le aree interne. Durante la sua omilia, ispirata proprio da quel discorso, il Vescovo della Diocesi di Trivento, Monsignor Claudio Palumbo, ha invitato i fedeli a riappropriarsi di un modello di famiglia che sia costruttore di vite e di civiltà, che rimetta al centro l'uomo. Bisogna riappropriarsi del lavoro, di quello vero, autentico, ha aggiunto, contestando il divario che si è prodotto tra l'economia reale e finanziaria, che ha creato l'umanità di coloro che devono morire di fame e l'umanità dei super ricchi. E la strada, ancora una volta, la indicano i grandi valori incarnati da Giovanni Paolo II. Un grande padre dell'umanità e un grande cultore e annunciatore di Gesù e incarnato per la nostra salvezza e del valore della persona umana. Non dobbiamo dimenticare questi pilastri del pontificato di San Giovanni Paolo II. E poi la sua venuta nel Molise, ecco, io ricordo ancora l'immagine bellissima quando l'elicottero atterrò sulla statale dinanzi al santuario di Castelpedroso e il Papa scendendo baciò la nostra terra. E poi la venuta qui ad Agnone, con quel grande invito, non rinunciati a progettare e costruire il vostro futuro. Un invito che appunto abbiamo raccolto e questo ci serve di monito e di incoraggiamento per continuare il nostro cammino di fronte e attraverso tutte le difficoltà. Un messaggio più che mai attuale è quello del Santo Padre. Un invito alle nuove generazioni a lottare e a credere ancora nel loro futuro e in quello della loro terra. È un messaggio che dobbiamo tramandare alle giovani generazioni che devono trovare in questi territori una ragione, un'occasione per credere di continuare a viverci. Il ricordare questa giornata non è un semplice dovere di memoria ma è una riscoperta del valore di quelle parole che devono essere per noi una guida e un orientamento nelle scelte che riguardano il nostro futuro.